Questa mattina, caro Tiberio, per l'altra estate vogliamo sapere come sta andando e come è andata sinora l'altra estate della Polizia, della Polizia di Stato. Il prefetto Vittorio Rizzi è il vice capo vicario della Polizia. Come è andata l'estate? Come sta andando? La Polizia assiste il cittadino da sempre in ogni istante, direi. Qual è la sua valutazione? Allora, sicuramente affrontiamo il tema della sicurezza sempre con molta prudenza e l'estate sta procedendo in maniera abbastanza tranquilla. Possiamo dire che la sicurezza non va in vacanza, non va in vacanza né la prevenzione né il contrasto alla criminalità. L'estate italiana è piena di eventi, di grandi eventi. Pensiamo al Palio di Siena, pensiamo del 16 agosto, pensiamo al fatto che la settimana scorsa è ricominciato il campionato di calcio. Le piazze italiane in un paese straordinario come l'Italia, con milioni di turisti, sono ricche di eventi, di manifestazioni. Solo qualche giorno fa un'operazione della DIA ha portato al sequestro di 700 kg di cocaina in mare. Diciamo che il lavoro non manca e non manca nemmeno sotto il profilo dell'assistenza a quella parte della popolazione più fragile. Le città si svuotano, ci sono in genere meno servizi e quelle realtà più fragili spesso hanno bisogno di soccorso e le forze di polizia vengono chiamate anche su questo fronte ad un intervento e a una presenza. Noi siamo collegati con Stefano Moni, prefetta, che è il direttore ufficio protezione dati, sala operativa della cyber security, che lei conosce bene ovviamente. Che succede da voi? Che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, in questa settimana, in queste settimane, in questa estate. Stefano, direttore Moni. Sì, buongiorno. Qui alla direzione centrale della polizia criminale, al Cyber Security Operation Center, ci occupiamo di proteggere le infrastrutture critiche informatiche che contengono i dati dei cittadini e sono condivise da tutte le forze di polizia. Questo è un centro che opera sulle 24 ore, quindi senza interruzione, senza soluzione di continuità sulle 24 ore, 365 giorni l'anno e si occupa di proteggere, nell'ambito di una strategia di cyber resilienza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le infrastrutture informatiche critiche per il Paese. Perché, prefetto Rizzi, le minacce del Belba attaccano anche la polizia e la polizia come si difende? Diciamo che oggi quello che accade nel mondo reale si ripete nel cyberspazio e quindi assistiamo quotidianamente ad attacchi di varia origine, per esempio a siti di enti pubblici, ospedali. Abbiamo imparato a convivere anche con un nuovo vocabolario. Prima parlavamo di estorsioni, oggi usiamo la parola ransomware per indicare queste cyber estorsioni e ci sono stati anche casi di tentativi di attacco alle forze di polizia. Il SISOC che abbiamo visto è una struttura che 24 ore al giorno monitora migliaia di parametri al secondo per verificare eventi anomali sulle nostre banche dati. Ci dobbiamo proteggere per poter garantire la migliore protezione al Paese. Lei ha curato anche un volume Investigare 5.0 insieme ad Anna Maria Giannini e Vittorio Rizzi. Investigare è stata la sua scelta di vita? Sì, è stata la mia scelta di vita, fortemente voluta e quindi mi ritengo assolutamente gratificato perché nella piramide dei bisogni e dei desideri sono riuscito a fare il lavoro che volevo, quello dell'investigatore. Ma io credo che chiunque sceglie di fare questo lavoro lo fa anche per una vocazione di servizio, quella di servire il proprio Paese e le proprie istituzioni. Tante donne, Poliziotto. Un vantaggio, un'aggiunta, qualcosa di molto positivo? Sicuramente sì, la Polizia di Stato ha un vantaggio competitivo notevole perché le donne sono entrate in Polizia già nel 1958. Con la riforma dell'81 sono ormai assolutamente parificate in tutti i servizi alle attività che prima erano riservate ai soli uomini. Oggi soprattutto la classe dirigenziale è composta per la metà da donne e sono un vantaggio competitivo per il Paese e per la Polizia di Stato. Chiudiamo davvero. Poi arriva una signora che poi le racconto chi è. Cosa sente di dire il vicario, capo della Polizia, al cittadino, ai cittadini, ai telespettatori? Un consiglio, una preghiera, un qualcosa? Se dovessi rivolgere un appello, l'appello è di avere fiducia nelle forze di Polizia. In quanto la sicurezza è un bene primario, una precondizione per l'esercizio di qualsiasi libertà. Se non c'è sicurezza non c'è libertà in un Paese. E quindi l'appello che rivolgo ai cittadini, denunciate, segnalate situazioni di illegalità, abbiate fiducia nelle forze di Polizia, abbiate fiducia nel Paese. E per chiudere davvero, c'è tanta collaborazione tra tutte le forze dell'ordine nel nostro Paese, è vero? Assolutamente sì, siamo una squadra, ma devo dire, e mi consenta di dirlo, c'è un consenso generale del Paese sul tema della legalità. Quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro la gente applaudiva, il consenso è verso lo Stato, non verso la criminalità. Perché anche un poliziotto, prima di essere poliziotto, è un cittadino e vive insieme agli altri. Assolutamente sì. In bocca al lupo, in bocca al lupo per tutto, arriva, arriva di tanto in tanto nei nostri palinzesti e ha un nome ben preciso, è la pubblicità.